Tecnici comunali questa mattina hanno effettuato un nuovo sopralluogo a Sala a Bagnano in Viale delle Tamerici dove ieri il comitato di quartiere presieduto da Antonio Elardi ha segnalato un nuovo piccolo smottamento. Ieri sul posto anche l'assessore all'urbanistica del comune di Salerno Mimmo De Maio che vuole avere chiara la situazione prima di intervenire in danno ai proprietari del fondo che è privato. Nel frattempo il comitato di quartiere mantiene alta la guardia attraverso puntuali report fotografici fa sapere di temere grossi rischi e che è necessario intervenire prima che ci siano conseguenze più gravi. C'è un pericolo imminente al Viale dei Tigli e al Viale delle Tamerici perché c'è una scarpata in frana. Ci siamo fatti carico noi come cittadini di monitorare la situazione e stiamo segnalando anche una ripresa dello smottamento del terreno agli organi competenti. Richiediamo su questo davvero un intervento urgente. Richiediamo che il comune si faccia carico del consolidamento del costone perché su questo costone affacciano due fabbricati perché c'è il rischio che lo smottamento possa interessare i fabbricati sottostanti e possa anche uccidere qualcuno che circola sul Viale dei Tigli e sul Viale delle Tamerici. Io credo che non sia proprio il caso di attendere il morto per potersi muovere. Il comitato di quartiere di Sala Bagnano intanto richiama l'attenzione anche su un altro problema. Da tempo si segnala la scarsa illuminazione alla base anche dell'incremento di reati nel quartiere dove la mancanza di luce avrebbe favorito i furti nelle abitazioni. Stanco di non ricevere risposte, il presidente del comitato di quartiere ha deciso di presentare una denuncia contro il comune inadempiente. Abbiamo con cortesia e delicatezza scritto al comune di Salerno negli ultimi due mesi rappresentando con dovizia di particolare tutti i problemi del quartiere. non ci hanno risposto nemmeno sulle cose più elementari come la sostituzione delle lampadine, dei lampioni, dell'illuminazione pubblica ci siamo francamente stufati. L'assenza di illuminazione secondo voi è uno dei motivi che genera mancanza di sicurezza? C'è anche un incremento dei furti nelle abitazioni a Sala Bagnano? C'è sicuramente un incremento dei furti. Questo può essere uno dei fattori che agevola i ladri che sono stati avvissati nei viali anche alle 18 del pomeriggio. Credo che ci siano delle condizioni minime di vivibilità da assicurare. Noi non pretendiamo l'impossibile, pretendiamo rispetto, chiarezza e pretendiamo soprattutto che alle nostre segnalazioni sia dato un riscontro positivo o negativo, positivo immediatamente oppure anche nel corso del tempo. Ma come cittadini di Salerno richiediamo che Sala Bagnano venga attenzionata dalla pubblica amministrazione e vengano risolti finalmente i problemi che abbiamo sottolineato. Grazie a tutti.